E' venuto e non ho visto niente, quindi è mezz'ora. Eh sì, mezz'ora. Ci abbiamo preso il cappello. Io penso pure se è qualcuno. Oddio, cioè deve far cradare. Queste cose si fanno veloci purtroppo. Ma lei fa mi caro. No, vedi? Che c'è la vita? Ciao, l'altro. E' un po' rossino. A questa sua vita. Ciao, l'altro.